Quei ragazzi che si sono esibiti, che corrono a ricevere gli aplast dai genitori e parenti tutti, bravi ragazzi Ok, adesso portatevi in quella postazione che escono da là i giocatori, va bene? Ecco il nostro mister, pulire tutto C'è anche i supporter sull'altro Vai, andate a mettere quella porta in bacio alla rete e vi portate in due paletti La porta vicina